Sono Caccia, sono responsabile tecnico e scientifico della Blue Moon, quest'anno siamo al Cosmoprof per presentare i nostri nuovi prodotti, abbiamo fatto un dispositivo LED che pensiamo sia il futuro di questo settore, Blue Moon è un'azienda che punta sulla qualità, non tanto sul prezzo anche se quest'anno abbiamo deciso di fare una gamma di prodotti che copre veramente tutti i prezzi, per tutte le possibilità. Blue Moon come sempre punta molto sulla qualità, sulla certificazione di prodotto, sui risultati garantiti, sulla ripetibilità, sull'assistenza, sul post vendita, questo ci ha permesso di espanderci come mercati, siamo andati in quasi tutti i paesi del mondo e siamo stati apprezzati per questo. La politica di Blue Moon è sempre stata di costruire macchine singole, non credeva molto alla macchina combinata che facesse più funzioni. A grande richiesta dei nostri utenti ci siamo convinti a fare anche questo, essendo costruttori per noi non è stato un problema associare più tecnologie in un solo case, abbiamo fatto una nuova linea con un nuovo design ancora più accattivante e più elegante e in questa macchina abbiamo inserito radiofrequenza, elettroporazione e luce pulsata in uno stesso contenitore con un prezzo estremamente competitivo. Noi ci vantiamo di costruire, progettare e fare design completamente in Italia, questo ci permette all'estero di essere molto apprezzati, l'Italia è molto apprezzata proprio per il design e per la serietà di molte aziende del settore. Grazie a tutti!